Ecco qua, adesso sono una settimana, sono una settimana, sei maschietti e tre femminucce, hanno pure un bel fiocchettino, sono un bel fiocchettino, sono un bel fiocchettino, sono un bel fiocchettino, Grazie a tutti. Guarda il primo, il maschietto, come succhio. C'è una femmina proprio gigantesca, quella là con il fiocco roso. Non so se si vede. No, forse... Ti devi mettere più vicino. Fai più vicino. Ma che color rosso la lampadina? Ehi, ehi.